Anche perché negli ultimi anni quello a cui abbiamo assistito è stata una deregulation totale, quindi già soltanto si rientrasse da questa impostazione sarebbe già un primo step sul quale poi si può costruire qualcosa di più positivo. Io non so com'è la situazione a Roma per esempio per quanto riguarda la distribuzione, ma insomma è chiaro una ripercussione immediata si avrebbe su quel piano lì, io sento sempre nella lista delle doglianze degli edicolanti al primo punto c'è sempre la stessa cosa. C'è sempre il problema, ma guarda io ti dico di più, ormai che sono sindacato sono più di vent'anni e noi abbiamo avuto sempre il problema davico, sempre, è un problema davico che non si riesce a risolvere e poi tante volte non si capisce il perché, perché ripeto, se siamo tutti sulla stessa barca, perché? Sì, però purtroppo c'è stato sempre questo senso che il distributore faceva come gli pare e che noi ne abbiamo, non la forza perché la forza ce la facciamo, potremmo pure avere, però diciamo che c'è un approccio della categoria, perché anche perché poi i sindacati, e qui torniamo un attimo al discorso, che i sindacati purtroppo non sono anche divisi su certe posizioni, bisognerebbe, io dico sempre, ciò dico sempre, è difficile, però comunque andare tutti i compatti sarebbe l'ideale, però poi vediamo quello che succede perché anche lì, che cosa si può fare per andare tutti insieme? Perché a me sembra che sia difficile, dico la verità, perché non ci troviamo d'accordo almeno con qualcuna serie di sindacati su niente, perché fino all'altro, fino a due mesi fa, alcuni sindacati dicevano che noi eravamo liberalizzati, che non c'era niente da fare, allora da fronte a questo però dovrebbero cambiare l'idea pure loro, penso. No, no, il ragionamento… Di trovare un punto d'incontro tutti insieme. Allora, approfondiamo un attimo questo tema della distribuzione per capire la situazione romana. La situazione romana è molto semplice, noi abbiamo due distributori, tre, quattro anzi abbiamo il messaggero, l'Emilian Press, l'Aigo Press e l'Agenzia Romana. Noi abbiamo rapporti con tutte le distribuzioni, c'è una distribuzione per esempio, parliamo dell'Emilian Press e abbiamo un accordo in cui abbiamo un controposito quasi tutte le pubblicazioni. Questo secondo me ha dato respiro alla categoria, perché avere il controposito significa pagare il venduto e non anticipare i soldi delle pubblicazioni. Sulla altra agenzia invece abbiamo i contropositi, ma abbiamo anche i mensili a pagamento, quindi lì è un po' diverso. Però insomma qui tutto sommato la Roma va abbastanza bene, anche se i giornalai si lamentano sempre, perché chiaramente è giusto pure che si lamentano. Il problema è che economicamente hanno visto 200 ticoli negli ultimi due anni, e quindi è chiaro che il momento economico è quello che è, però io tante volte quando parlo con i giornalai che mi devono essere arrabbiatissimi, però poi quando tu ci parli e spieghi certe cose, te lo capiscono, perché più di questo, sinceramente è difficile, a meno che non si faccia un quadro generale nazionale. La situazione a Roma è questa, purtroppo le seguiremo a chiudere, la distribuzione comunque è sempre la distribuzione, anche se ripeto abbiamo buoni rapporti, noi paghiamo un'agenzia dopo 10 giorni, che abbiamo avuto già la merce, 10-12 giorni, perché si è fatto conto che va da lunedì a domenica, ci viene consegnato il giovedì e lo paghiamo il martedì tanto, la settimana dopo, quindi diciamo noi, come organizzazioni, metto anche altre organizzazioni perché l'accordo l'abbiamo fatto tutti insieme, come organizzazioni sindacali abbiamo cercato di dare un po' di respiro alla categoria, ma è un po' di respiro, cioè uno si ampia sugli specchi per cercare di dare respiro alla categoria. No, no, fai bene il sottolineare, oggettivamente se non si fa un quadro allargato, chi di questo non si può, ecco, poi chiaramente i giornali si lamentano sempre a discendere. Soprattutto quelli di Roma. E hanno anche ragione, diciamo. No, no, certo, hanno sicuramente ragione, tra l'altro io ho seguito la piazza romana quando fu varato le leggi e vendi, mi sembra che l'assemblea poi non fosse così scarna, insomma c'era abbastanza... No, 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 hanno risposto, hanno fatto, però il discorso è sempre quello, cioè dai un po' con quell'iniziativa, possiamo fare un po' di respiro, parliamo sempre di respiro, però non è che risolvi il problema, perché il problema purtroppo, ecco, oggi stiamo parlando, tenendo in macchina con Alberto, tenendo le vigole, però non le comprano, poi entrano, poi escono, poi rilasciano, perché purtroppo il momento economico è quello che è. Ecco, appunto, io volevo proprio chiederti, anche perché potrebbe essere motivo di interesse per gli altri edicolanti che ci stanno ascoltando in altre zone d'Italia, e cioè le caratteristiche di queste chiusure, se ti sei fatto un quadro, se la conduzione per esempio a Roma è ancora prevalentemente a carattere familiare, se si avvicinano i giovani, quanto riescono a resistere, ecco, caratteristiche di questo genere che servono di inquadrare meglio... Allora, ti posso dire che chiaramente, essendoci stato un calo delle vendite, hanno sofferto subito le edicole, quelle che stavano, diciamo, più in periferia, perché al centro storico, bene o male, cercano di vendere altri prodotti, tipo i sugoniti e i stranieri, quindi in qualche maniera, perché se fosse stato per prodotti di un reale, al centro storico avrebbero visto tutte le edicole. Anche se poi, scusa Enrico, se ti fermo un attimo, dovrai dirmi qualche cosa? C'è una certa presenza di, chiamiamoli, migranti estracomunitari, cioè che si stanno inserendo, questo ne parliamo dopo, vai avanti nella spiegazione delle... No, dicevo, purtroppo chi mi ha risentito, chiaramente sono stati, come dico, in periferia, che stanno qui in difficoltà e hanno giusto, in quanto il reddito ormai non permetteva più di sostenere le spese. L'altro giorno è venuto qui in giornale, aveva comprato l'edicola per i figli e purtroppo ha detto io si è abbassato talmente tanto l'incasso che non riesco più e quindi non posso seguire a mettere i miei soldi per aiutare i miei figli. Poi ai figli mi piaceva fare questo mestiere, però da lì non è colpa del distributore o del meditore, lì è colpa che, essendo, ripeto, il problema economico, è chiaro che se te si dici, devi pagare l'Ips, devi pagare solo pubblico, devi pagare le tasse, devi pagare il telefono e tutto quanto, e la prima non ne ha più e quindi chiudi. Oggi ci stanno edicole che tassano 200-300 euro al giorno e ancora vanno avanti, non so per quanto tempo riusciranno ad andare avanti. Questo è il quadro. Dicole, negli ultimi due anni hanno chiuso 200-300. È un numero altissimo, certo, parliamo di Roma, però è un numero altissimo rispetto a... Allora c'erano 1000-300, oggi ce ne sono 800 forse, forse. Certo. Quindi il 20%, non è che stabbiamo di... No, no, non è poco, certo. Dunque tu hai citato il suolo pubblico, a me è venuto in mente, insomma... No, voglio dire una cosa sul suolo pubblico, che qualche anni fa noi come sindacato, e dico noi perché noi l'abbiamo fatto, siamo riusciti, siamo riusciti ad abbassare il suolo pubblico, cosa che magari nessuno se ne è accorto, perché sai come i giornali sono bravissimi, però quando fai una cosa... Tu si pari... Il suolo pubblico è dovuto, punto. Guarda, è l'unica categoria a Roma, l'unica categoria a Roma, che mentre gli altri hanno contato tutto il suolo pubblico, i bar, è chiaramente c'è anche. Noi abbiamo fatto vedere le nostre ragioni e passando da... le tifole non hanno messo in un ambiente, siamo passati, siamo passati, guiparati ai carburanti e abbiamo abbassato il suolo pubblico, ma abbiamo di due a 300 euro l'anno quando ha risparmiato, eh. Quindi noi sul suolo pubblico non possiamo... Quest'anno non è aumentato, avevamo paura che ce l'aumentavano. Gli unici che sono stati penalizzati sono stati quelli del centro storico, perché? Perché il cadastro ha fatto la riguardazione in base alle strade. Sì. E lì purtroppo non c'è la ragione, il cadastro purtroppo non è il comune, quindi abbiamo potuto fare poco. Beh, da questo punto di vista c'è un sistema di tassazione che è scientifico, non si può sfuggire e quindi laddove chiaramente... Hanno riguardato la strada praticamente da dieci hanno fatto pagare quindi tutto qui. Non hanno fatto una delibera, sai, una delibera col comune e vai a discutere. È interessante Enrico questa equiparazione con le rivendite di carburanti, quindi fai il pieno di notizie e vai tranquillo per tutti. È il pieno di carburanti, no, era solo una questione che loro pagavano di bene e noi ci siamo, come se dissete, agganciati. Certo, certo. Però è vero, c'è la ragione, è pieno di carburanti, è pieno di notizie. Dunque, dicevamo dei migranti che è un altro capitolo interessante perché appunto nelle grandi città, quindi Roma, si stanno affacciando a questa professione e però appunto anche lì è un mondo da scoprire. Non so voi a che punto siete dal punto di vista della relazione con questo mondo, se si sono presentati. Ti dico subito che adesso parecchi, parecchi diciamo estracomunitari, chiamiamoli migranti che vengono, si avvicinano alle tigole e le comprano, ma loro le comprano con altro spirito, cioè loro sono abituati a lavorare, non è che lo dico in un senso dispregiativo, ma loro stanno aperti tutta la notte, lavorano sempre, lavorano a un punto che poi dopo magari si rendono conto che non è come dicono loro perché non è che si può vendere tutto dentro le tigole, le tigole si può vendere solo determinate cose in base alla legge che c'è, però si stanno avvicinando al compattimento di tigole e li stanno comprando. Ultimamente abbiamo parecchie persone che sono entrate nel mondo nostro, al centro, in paeseria, dappertutto. Quindi anche qui sta prendendo piede del fatto che diciamo la nostra categoria come tutte le categorie c'è una come si diceva, un'entrata di nuovi soggetti perché va benissimo, noi siamo contenti perché secondo me potrebbero portare qualcosa di nuovo, adesso non so che cosa, però avete fatto un censimento o meglio avete in mente di farlo, cercare di capire, di contattare? Per adesso no, io però me ne rendo conto perché siccome noi qui a Roma abbiamo anche la possibilità di avere una società di servizi che fa la contabilità, c'ha il notaio, c'ha tutto, quindi attraverso questo tipo di servizi ci rendiamo conto perché entrano in gestione che andano qui a fare la gestione, e la comprano e vengono qui a far l'atto, quindi ci stiamo rendendo conto in base a queste cose che stanno entrando, ma non è che ci abbiamo, cioè noi al limite poi sul nostro computer abbiamo le schede di tutti quelli che i nostri associati e ti dico che sta prendendo piede questa cosa. Certo, va bene Enrico, noi rendiamo conto per questo, cioè per il fatto dei servizi che elargiamo ai nostri associati attraverso la società che abbiamo. Beh, prima o poi sicuramente la cosa prenderà le sue gambe perché è importante sviluppare un confronto, anche perché come dicevi tu c'è un altro stile di approccio, ecco, e quindi è interessante capire e confrontare qual è quell'approccio lì, quali sono gli obiettivi, quali sono i vantaggi e i svantaggi che poi ne verranno alla categoria perché non è detto che siano tutti vantaggi o tutti svantaggi però bisognerà valutare con calma quello che succede. Io non lo vedo male, insomma, io lo vedo in senso positivo anche perché ci sono giornali che ormai che sono 40 anni che fanno sommettivare magari sono anche stancati e quindi approfittano per vendere la loro azienda. Sì, diciamo così in astratto, adesso non si può ragionare con i numeri ma mi sembra di capire che hanno un grado maggiore di resistenza e quindi in qualche modo insomma possono contrastare questa moria di edicole che... Sì, perché loro vedono l'edicola chiusa si rivolgono magari a quello vicino che li manda da... non è che vengono tutti da noi proprio la grande maggioranza che vengono da noi manda al sindacato che si informano e poi dopo vengono qui a fare... Ripeto, io me ne accorgo perché noi abbiamo questo tipo di servizio e quindi te ne accorgi perché vengono comprano affittano prendono in gestione c'è un sacco c'è un sacco di movimento su questo fronte. Bene, sarà un argomento che approfondiremo sicuramente in futura Enrico, io ti ringrazio di questi minuti che ci hai dedicato ti auguro buona giornata e ci risentiremo presto. e ci risentiremo e ci risentiremo e ci risentiremo